Una figura che una volta era molto settoriale, ora è diventata una figura dinamica, sono persone molto esperte. Per cui è una figura che diventa fondamentale in un quadro di promozione della salute. Vogliamo garantire un servizio professionale qualificato, ma al tempo stesso c'è la componente umanitaria, il volontariato umanitario. Noi siamo favorevoli alla realizzazione di un volontariato di relazione. Arriva così l'infermiere di misericordia, un nuovo servizio rivolto ai più bisognosi messo a disposizione dalla confraternita. Opererà sia in sede che soprattutto al domicilio. La misericordia ha istituito attraverso il suo magistrato la figura di infermiere di misericordia, un professionista che può andare a domicilio a sostenere le famiglie nell'assistenza dei propri congiunti. In particolare ci rivolgiamo anche ai parruci, alle parrocche, affinché le parrocche possono anche essere un punto di riferimento per l'assistenza e la tutela sanitaria assicurata dalla misericordia. In questo periodo noi abbiamo variato molto la nostra collocazione all'interno della città, sia come centro di formazione, sia come diffusione di molte cose, di buone pratiche, all'interno delle scuole, con vari progetti e inoltre con le attività che abbiamo svolto anche per l'azienda, per quanto dalle vaccinazioni ai tamponi, agli screening. Quindi noi abbiamo cominciato a cambiare e a spostarci anche verso questo aspetto sanitario. Esiste già un bando e a partire nei prossimi giorni, coloro che decidono partecipare a queste esperienze di infermieri di misericordia possono fare la loro domanda, ma al tempo stesso mi rivolgo anche a tutti gli amici e alle amiche che hanno lavorato con noi per tanti anni presso l'ospedale di Arezzo e che sono in pensione e che possono portare il loro contributo professionale come volontariato di umanitario di farsi avanti. Grazie a tutti.